Presto il completamento del restauro di Villa Nitti a Maratea. Il restyling avverrà grazie allo stanziamento di 1.600.000 euro della Giunta regionale alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici su proposta del Presidente della Regione Vito di Filippo. Il restauro di Villa Nitti è uno dei progetti che rientra nell'accordo di programma quadro del 2001 sottoscritto con il Ministero dei Beni Culturali. Verrà consentita così la fruibilità dell'edificio di grande valenza storica e architettonica con un centro di alta formazione. Villa Nitti, risalente al XIX secolo, è stata di proprietà dello statista lucano Francesco Saverio Nitti e ha un grande pregio architettonico. Il suo stile è tra il neogotico e il decò. L'obiettivo, ha commentato il governatore De Filippo, è quello di associare il nome di Nitti ad una scuola di formazione della classe dirigente che possa garantire alla Basilicata di essere sempre all'altezza delle aspettative per la costruzione dello sviluppo. E la Basilicata oggi si prepara ad offrire questo nuovo contributo con una classe dirigente che possa supportare la crescita propria delle altre regioni e complessivamente di tutta l'Italia.